Un nuovo centro che si apre per la sanità ad Ostia? Siamo contenti perché anche un laboratorio si apre al centro di Ostia, soprattutto che ha anche l'apertura domenica mattina, estremamente importante per tutte le persone che lavorano. La qualità è già conosciuta da tutti i colleghi, quindi in bocca al lupo per questa nuova ITEM. La sanità offre a Ostia una nuova opportunità? Sì, sicuramente sì, è un laboratorio che già conosciamo, si è trasferito da poco, ottimi risultati sotto tutti i punti di vista, qualità, cortesia, direi un ulteriore miglioramento sulle nostre strutture e del nostro territorio. Una nuova struttura per rispondere alle esigenze della sanità ostensa? Dobbiamo dire che tutto sommato nel marasma della sanità laziale Ostia da questo punto di vista è un quartiere di Roma, una città che per quanto riguarda l'offerta, soprattutto delle strutture diagnostiche, è veramente a livelli alti e ottimi. Aggiungere una struttura, aggiungere un punto prelievi, aggiungere una possibilità di fare diagnostica più prossima al cittadino è sicuramente qualcosa che è comodo per il cittadino e per i medici. Poi cercheremo ovviamente con le collaborazioni, con tutte le strutture, di riuscire anche ad ottenere in breve tempo le risposte che ci servono per curare meglio i nostri assistiti. Life Brain a proda a Ostia, in che cosa consiste il vostro servizio? Allora, noi, Life Brain è un grandissimo gruppo, finalmente un grande gruppo a livello nazionale che è entrato a far parte adesso nel nostro territorio, che è Ostia, e noi oggi stiamo inaugurando il poliambulatorio IAC. Il poliambulatorio IAC è un laboratorio che è nato 40 anni fa nel territorio di Ostia, acquistato nel 2015 dal gruppo Life Brain, finalmente adesso dal 10 avrilio 2019 si è trasferito in questa sede e si è ampliato i propri servizi diventando poliambulatorio, quindi analisi e polispecialistica. Quindi vi aspettiamo. Tutti i giorni siete aperti? Sì, aperti tutti i giorni, dalle 7 alle 13, dalle 15 e 30 alle 18 e 30, compresa la domenica, quindi diamo il servizio anche la domenica. Soltanto analisi? No, non solo analisi, finalmente il laboratorio IAC è diventato anche polispecialistica, quindi facciamo endocrinologia, ginecologia, urologia e tante altre specialistiche che vi invito ovviamente a venire a vedere.